Quali sono i vostri attori italiani preferiti? Attori italiani... Stefano Corsi. Ma gli attori italiani... L'attore italiano... Luigi Rocascio? Raul Bova. Un attore giovanissimo che mi piace molto è Luca Argentero, ma non è ancora famosissimo, perché oltre ad essere bello è anche bravo. Poi gli attori storici italiani, mastroiani, attrici italiani... Mi piace un'attrice giovane e giovana mezzogiorno. Mi piacciono gli attori italiani meno recenti, come Anna Magnani e Mastroianni. Quali sono i vostri attori italiani preferiti? Quali registi? Per quanto riguarda gli attori preferisco sia Stefano Corsi nel film L'ultimo bacio e Raul Bova. Per quanto riguarda i registi, Pupiavati, sì. Muccino. Vittorio De Sica. Vabbè, mi piace molto Nanni Moretti per le tematiche dei suoi film. Quali i film italiani classici? Classici? Eh beh, gli anni 40, Rossellini, chi veramente ha trasformato Cinecittà. Mi piace molto Otto e mezzo di Fellini. Roma Città Aperta. Totò, il film di Totò. Pane, amore e fantasia. Pane, amore e fantasia. Cosa è un film diênca? Grazie.